Regione Lombardia per giocare a Carta Bianca. Carta Bianca? Carta Bianca? Lei è? Giulio Gallera, consigliere regionale. Benvenuto, grazie. Della Carta Bianca, qual è la novità? Beh, la novità è guardare dal mio punto di vista il 2021, anche da un ruolo diverso. Per quattro anni e mezzo ho fatto l'assessore al welfare, ho gestito la più grande pandemia che si è abbattuta per la prima volta nel mondo occidentale sulla Regione Lombardia, per dieci lunghi mesi, è stata molto dura, molto difficile, oggi ho un ruolo diverso. Sono tornato in consiglio, sono entrato nella Commissione Attività Produttive e quindi da qualche giorno mi occuperò sempre degli effetti della pandemia, non più dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista degli effetti sull'economia, sui sociali e quindi il supporto e il sostegno ai nostri commercianti, gli artigiani, i gestori delle palestre, il mondo dell'arte, della cultura.